Sono iniziati gli europei di calcio 2012. In teoria si dovrebbe trattare di un momento di sport e di integrazione, un mese che grazie al pallone dovrebbe unire gli oltre 500 milioni di europei e non solo attorno alle partite della loro nazionale. Purtroppo gli europei 2012 non nascono sotto una buona stella. A di là degli scandali del calcio scommesse a cui in Italia siamo ormai purtroppo abituati, Euro 2012 è un campionato sporco, sporco di soldi, sporco di sangue. Da mesi associazioni, volontari ucraini e semplici cittadini denunciano la silenziosa strage di randaggi compiuta nelle strade ucraine, una mattanza di migliaia di cani fatti fuori in modo barbaro solo per ripulire le strade delle città che stanno ospitando le partite di calcio degli europei. conosciamo bene le immagini di questi poveri animali ammazzati a bastonate, fucilate o avvelenati senza pietà in nome del business del pallone. Gli europei di calcio infatti, prima ancora che una manifestazione sportiva europea, sono diventati un'enorme macchina di soldi. Polonia e Ucraina infatti hanno investito miliardi di euro per sfruttare al massimo questo evento sportivo che sta attirando l'attenzione di tutta Europa, anzi del mondo intero. Stadi nuovi, strade e ponti, altre infrastrutture gigantesche per il grande europeo 2012, un giro complessivo di 4 miliardi e mezzo di euro. Cifre da capogiro per le quali in Ucraina non si è pensato due volte a sacrificare la vita di migliaia di cani d'andaggi. A Bruxelles ho fatto il possibile per spingere le istituzioni europee ad intercedere con le autorità ucraine e mi sono rivolto personalmente a Kiev per domandare lo stop immediato di queste terribili uccisioni, ma purtroppo il grosso della strage era già stato commesso. Lo sport è una manifestazione di condivisione umana bellissima, forse una delle più belle forme dello stare insieme, ma quando tutto questo viene inquinato dagli affari a tutti i costi e sporcato con il sangue di poveri animali innocenti, allora diventa una cosa ripugnante. Per quanto mi riguarda, gli europei di calcio 2012 non incarnano niente di europeo né tanto meno di sportivo.